Oggi si è conclusa la vicenda Liris in Commissione Vigilanza, dopo due sedute siamo arrivati a capire meglio cosa c'era dietro. Se accettiamo, diciamo, da un punto di vista umano, la volontà del dottor Liris di tornare in azienda e dare il suo contributo in un momento di emergenza e quindi all'interno di un contesto particolare, restano molti dubbi, certo sulla incompatibilità legislativa e l'avvocatura regionale dovranno esprimersi perché non è vicenda molto chiara, è la prima volta che c'è l'esercizio della surroga, quindi qualcuno ci dovrà spiegare se c'era o meno l'incompatibilità. Resta sicuramente l'aspetto più politico che è quello dell'opportunità, sicuramente non era opportuno e abbiamo molti più dubbi sull'opportunità politica. Alla fine di due commissioni in cui questo tema è stato sviscerato sia da parte dell'assessore Liris che da parte dell'ASL, i dubbi maggiori restano sul fatto che mancano i pareri. Mancava il parere dell'avvocatura e del legislativo, l'avamo già accertato. Liris aveva detto che c'era un parere da parte del legislativo, della parte regale dell'ASL, abbiamo scoperto che nemmeno quello c'era. Di fatto la delibera 189 del 2020 dell'ASL non riporta nessun parere legislativo, cioè nessuno si è creato il problema di verificare se c'era o meno l'incompatibilità dell'assessore Liris nel reintegro all'interno dell'azienda. Questo lascia più di qualche dubbio, l'avevamo già detto e lo ribadiamo. Mettiamola così, se voleva essere un contributo tra una personalità di spicco come Liris all'interno dell'azienda e all'interno della regione, l'ASL stessa piuttosto che darsi una mano si sono, a dire il vero, ostacolati, hanno creato più di un problema, sia d'immagine dell'assessore, sia dell'ASL, che ha dimostrato una leggerezza che è davvero inqualificabile, a parere mio. Il secondo punto all'ordine del giorno, che era quello dell'ASDU, abbiamo sviscerato anche in questo caso molti aspetti che hanno bloccato le quote relative alla borsa di studio di molti studenti. Lascio a chi verrà dopo, che sono i relatori fedele e di benedetto, questo aspetto certo va stigmatizzato l'assoluta assenza nei banchi, sia della maggioranza che dell'opposizione. Erano sicuramente più le persone in audizione che i presenti in aula. Se si toglie il Presidente e il Vice Presidente della Commissione, di benedetto e fedele, Tagliere è arrivato con qualche minuto in ritardo, per il resto i banchi erano completamente vuoti. Questa è una dimostrazione di come il tema studenti, il tema università e il tema legato alle borse di studio non sia assolutamente né in agente né nell'interesse della maggioranza e del Consiglio regionale tutto. Questo è un atteggiamento a dir poco inqualificabile.